Alle 11.40 di oggi Salvatore Ranieri ha siglato per l'accettazione. In Consiglio Comunale a Taranto subentrerà lui. Si tratta del primo dei non eletti nella lista AT6 Lega d'Azione Meridionale che storicamente fa capo a Giancarlo Cito. Accade all'indomani delle dimissioni presentate al presidente Lucio Lonoce da parte del figlio Mario Cito tra i banchi dell'opposizione. La surroga del nuovo consigliere Ranieri avverrà il 2 settembre prossimo in sede di Consiglio Comunale. A rappresentare la famiglia Cito nella massima assise cittadina resterà la sorella di Mario Antonella. AT6 conserva in città una buona pil elettorale. Le dimissioni che non erano state palesate nei giorni scorsi dettate da motivi personali e lavorativi scrive Mario Cito arrivano in un momento particolare. In questi giorni il sindaco Rinaldo Merucci sta ascoltando i diversi gruppi consigliari in vista di un nuovo disegno della giunta. Restano oltretutto da nominare i CDA delle tre società partecipate, Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi.